È bello in questa parte dell'anno per noi ogni tanto rievocare e ricordare e poi naturalmente riascoltare con voi qualche brano che compie un anniversario speciale. In particolare, come ben sapete, abbiamo iniziato un filone dedicato ai 50 anni di album e dunque anche canzoni speciali. Oggi è il turno di The Lamb Lies Down on Broadway, un disco firmato dai Genesis e nello specifico l'ultimo della formazione con Peter Gabriel. Anche quest'album infatti festeggia le cinque decadi. Era intanto il sesto in studio del gruppo musicale britannico pubblicato il 22 novembre del 74 dalla Charisma Records ed era anche l'unica opera rock realizzata dai Genesis. Il gruppo compose e arrangiò gran parte dell'album a luglio del 74 presso la Adelaide Grange, una villa nell'East Hampshire già nota per aver ospitato le registrazioni di due album dei Led Zeppelin. Poi fu registrato nel Galles presso una cappella tra agosto e ottobre del 74 utilizzando uno studio mobile. Durante i mixaggi che si svolsero agli Island Studios di Londra, il gruppo chiese a Brian Eno, che stava lavorando al piano di sopra, di filtrare alcune tracce di voce di chitarra attraverso un sintetizzatore e in cambio del favore Phil Collins suonò gratuitamente la batteria sul brano Mother Wall Isles del secondo album di Eno, Talking Tiger Mountain. Il contributo di Eno fu accreditato poi in copertina con il termine di enossification. I diversi brani che compongono l'intero disco sono finalizzati ad escrivere un racconto ideato e scritto da Peter Gabriel, poi riportato per intero all'interno della copertina. Lui è anche, tra l'altro, autore di tutti i testi delle canzoni, tranne uno, proprio The Light Dies Down on Broadway, scritto invece da Mike Rutherford e Tony Banks. Il protagonista del racconto è Rael, il cui nome deriva dal cognome di Gabriel, cioè l'anagramma di Rial reale. Lo stesso Gabriel, nel prologo, ha racconto a suggerire a modo suo ai lettori che sta usando il personaggio come una sorta di alter ego dietro il quale nascondersi. Il racconto incomincia a New York nel 1974. Rael è un giovane portoricano fuoriuscito dal riformatorio di Pontiac, sbuca da un sottopassaggio pedonale di Manhattan, sul cui Muro ha appena lasciato la propria tag con la vernice spray, forse l'unico modo che conosce per affermare e fissare nel tempo la sua personalità. Attraversando Broadway il protagonista si imbatte, prima in un agnello sdraiato fra i vapori dei riscaldamenti sotterranei, della metro, quindi in una densa nebbia che poi si solidifica come un muro di fronte a lui, al quale si avvicina e poi lo travolge. Da quel momento Rael viene trasportato in un'altra dimensione spazio-temporale. Quasi sempre l'ambientazione, in questo caso sotterranea, e qui affronta una serie di avventure e di incontri con personaggi svariati. Subito dopo il salvataggio, tuttavia Rael si accorge sgomento che chi lo ha salvato, quest'altra figura di John, ha assunto le sue sembianze e di fatto diventa una sorta di proiezione del suo io. Immediatamente dopo i due Rael scompaiono in una misteriosa foschia di colore porpora insieme a tutta la scena alla storia. Come Peter Gabriel ha affermato in ripetute interviste, il racconto è una sorta di artificio per dare vita e poter affrontare diversi temi. La parte più curiosa musicalmente del disco è il fatto che nel brano The Colony of Slippermen, l'unico verso dell'intero album in cui l'alter ego di Rael Gabriel, cioè il fratello John, parla in prima persona, è cantato da Phil Collins, cioè colui che nel 1976 avrebbe sostituito proprio Peter Gabriel come frontman del gruppo. E allora è il momento di riascoltare proprio questo brano. A presto!